Ecco Ivar, e c'è Olbert. Io credo di sì. Un lieve odore nervoso. No, no. C'è odore di tuoni distanti nell'aria. Thor è con noi. Ivar, c'è Olbert. Salute Eivor. Stavo dicendo al principe che oggi Thor è con noi. La vittoria è certa. Dunque, qual è il tuo piano? Quel bastardo di Inir è a capo del villaggio. Mostriamo a questa gente cosa accade a chi si piega i Britanni. Facciamoli a pezzi, riduciamoli in cenere e tagliamo la gola di Inir. Giusto, ragazzo? Desidero essere valoroso, non crudele. A tagliare le gole ci penserai tu. Se avremo la meglio, c'è Olbert. Diventerà Aldermanno. Prima principe. Presto Aldermanno. È un giorno re. Oh, stai facendo strada, ragazzo. Spero di iniziare il mio incarico in pace, Ivar. Finiamola qui. Una volta per tutte. E parla persino come un Aldermanno. Ho il sangue che ribolle. Attacchiamo ora e lasciamo una scia di sangue. Un approccio furtivo ci darebbe più tempo. Bah, preferisco rumore e furia. Ma fa quel che devi. Bruciamo ogni cosa. Ridurremo questo luogo a un mucchio di cenere. Vieni, c'è Olbert. Combattiamo. Lascia che i Sassoni fuggano, Ivar. Solo i Britanni meritano la nostra ira. Il Tuono di Thor è con noi! È necessario occultarmi qui. Il Tuono di Thor! No Ah 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 Grazie. Grazie. Grazie.